Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Grania Sky 2 Allora, abbiamo ucciso il Wither nella puntata scorsa Quindi, in questa bella puntatona faremo il Ritual Sigil Per poter poi completare la Mob Farm che abbiamo fatto qua Ricordate che abbiamo fatto una Mob Farm? Ecco, adesso la completeremo Andiamo a mettere giù un po' di roba, la Stella del Nether, le cazzate varie Anzi, la Stella del Nether io gliela insegnerei Qua, giusto così Allora, possiamo intanto mettere a fondere un po' di roba Tipo questo, tipo questo, questo Questa, questa E basta, ok Mettiamo giù questi Che non ci servono più La Stella via, questo via, questo via Via, via Via, 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 via Oh, potremmo fare un'altra cosa di vita, però dopo Non adesso, quindi Così Piccone Piccone Volendo il piccone potremmo anche fare Qua? Sto creando ancora? Non ho voglia Allora, 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 allora Il ritual sigil, allora, dobbiamo fare L'enchanting table Enchanting, enchanting table, questo qua Facile, ok Poi ci serve della redstone Poi ci serve della legna Per poi chiudere E Ah, ecco, dobbiamo fare il Com'è che si chiamava? L'asso L'asso Sì, questo qua Ok, ci manca tutto Quindi dobbiamo fare le pepite Così L'occhio Così E fare un lasso Ok Perché è il lasso? Perché ci serve una bestia da sacrificare Ok Quindi Ci prendiamo una bella Mucca O una pecora No, abbiamo una pecora che mi sta sulle palle Andiamo qua E ci prendiamo La bella, sta bella pecorina No Non l'ho presa Perché non va? Non va quella piccola Proviamo quella Maiale E' buggato? Un po' Forse non prende bestie Stupide bestie Vediamo questo Se me lo prende uno No Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? No Non avSL assists ok adesso che non sono più pacifici no non me lo posso prendere e che palle perché non me lo fa prendere è buggato ok niente non funziona non so perché non riesco a farlo funzionare facciamo un altro modo comunque ho già pensato come farlo allora andiamo qua ci prendiamo il safari 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 questo qua vediamo se c'è qualche mob dentro no non c'è nessun mob allora ci prendiamo una bella pecorazza ok presa allora cosa dobbiamo fare ci serve delle fence ok ok dobbiamo mettere giù questo qua intorno 1 2 3 4 5 6 7 e 8 blocchi di redstone poi gli mettiamo delle fence qua sopra così la bestia non può uscire ok ok poi dopo le spacchiamo vediamo questo gli mettiamo la bestia là dentro e resta lì ok aspettiamo così una bestia qualsiasi un mob qualsiasi poi prendiamo in mano il sigillo e dobbiamo aspettare la mezzanotte quindi andiamo a prenderci il nostro bello orologio così capiamo che ore sono clock ce l'avevo sì perfetto allora è mezzogiorno solo che piove quindi niente aspettiamo aspettiamo allora sì tutto pronto dovrebbe essere tutto pronto dovrò aspettare che arriva mezzanotte allora ragazzi ci siamo quasi allora vedete la luna che è sopra di noi ho finalmente smesso di piovere quando la luna sarà perfettamente sopra di noi e cioè adesso in questo momento vedete il sigillo si è illuminato noi abbiamo tipo un paio di minuti di tempo quindi scendiamo giù col sigillo bello illuminato arriviamo qui ammazziamo il nostro bel maiale e guardate che cosa è successo ok ora che cosa dobbiamo fare semplicemente ci riprendiamo il rituale è dato il sigillo è attivato vedete e i mob spawnano il problema è che adesso i mob spawnano un botto nel senso su questo terreno qua spawnano molto ma molto più velocemente è quello che l'ho fatto qua dentro no ora tiriamo via sta cosa lì si propaga finché trova terra si propagherà scendiamo a prenderci la nostra bella roba chiudiamo perché voglio chiudere perché a parte che oddio dove si è spavolato chiudiamo perché se arriva il sole se sorge il sole tutta questa terra qua questa qua viola prende fuoco e si brucia fino a consumarsi e perdiamo il sistema fatto ora rimettiamo le torce che non so perché sono sparite forse l'esplosione può darsi una dove sono finite le altre adesso due tre e eccola l'altra e quattro ok e abbiamo la nostra bella mob farm ci mettiamo qua con la nostra bella spada volendo e li facciamo fuori il problema è che così in realtà non raccogliamo nulla ho anche un enderman si è si è fatto gli enderman si creano proprio bene perfetto allora il problema è che io voglio cazzo mi ha abbenenato lo stesso sta puttana vabbè però il grinder lo posso mettere qua dai ce la si fa va bene va bene va bene va bene ragazzi dai allora la mob farm l'abbiamo fatta possiamo chiudere e e basta quindi direi che abbiamo fatto il nostro bel ritual sigil la nostra bella mob farm in cui verremo qua e ammazzeremo un sacco di mob e vediamo se ci ha trovato questo completato magari dal mob hunter vediamo vediamo no niente perfetto ottimo direi va bene dai direi che quindi per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao